Due regine sono troppe e una delle due, prima o poi, verrà spodestata. Dopo tre turni di campionato passati in compagnia della Tricolore, con la quale si dividono la vetta della graduatoria, stasera l'atletico Palocco cercherà proprio di andare a prendersi quella vittoria che potrebbe permettere di staccare sui rivali. Per riuscirci bisognerà innanzitutto avere ragione di una guerritosti antica, che in caso di successo, oltre a rovinare i piani dell'avversario, potrebbe di colpo ritrovarsi a ficcare il naso nelle zone alte. Buonasera e ben ritrovati amici di Fanner, da Vieri di Puglia, vai scena la Lega a calcio a otto. Vi raccontiamo atletico Palocco Ostia Antica, quarto turno di Serie B. Grazie a tutti. arriva eh tira 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 lascia il score eh lascia no no o no bravo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.